I finanziari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziale della Guardia di Finanza di Barga, al termine di una complessa e prolungata attività di indagine, hanno seguito un provvedimento di avviso di conclusione delle indagini nei confronti di Angelo Cera, esponente del partito politico UDC ed ex parlamentare della Repubblica Italiana, e di Napoleone Cera, consigliere regionale della Regione Puglia. In ragione di pressione che sarebbero tradotte in tentativi di induzione in debita e in metodo alla segnalazione di alcuni nominativi da assumere presso enti. Richieste però che non avrebbero sortito l'effetto voluto dai Cera, proprio in conseguenza della ferma opposizione da parte degli stessi amministratori del Consorzio. I Cera avrebbero infatti avvantaggiato una società di servizi sulla quale avrebbero potuto influire soprattutto in termini di assunzione di personale dipendente. L'ipotesi dell'accusa nella vicenda che coinvolge Emiliano è che in cambio della nomina del commissario dell'Aspri, Cheuti Angelo Cera, ex parlamentare UDC e suo figlio Napoleone, avrebbero assicurato il loro appoggio al candidato alla carica di sindaco di San Severo, Francesco Miglio, caldeggiato dal governatore Emiliano. Sulla vicenda è intervenuto lo stesso Matteo Salvini, il quale in una nota scrive La Puglia merita di meglio. Dopo 15 anni di mal governo di sinistra, la Lega è pronta ad essere protagonista del cambiamento. La procura di Foggia ha chiuso oggi le indagini che coinvolgono il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, l'assessore a welfare Salvatore Ruggeri e i due esponenti dell'Udc, Angelo e il figlio Napoleone Cera.